La partita l'altra finale riservata ai maschi sempre nella categoria unico, il 1.500 del percorso stanno completando il primo giro e la Svizzera dei Stati Uniti d'America nelle prime due posizioni, mantengono sempre invariate le proprie posizioni, siamo a tre giri dalla conclusione, completano il secondo giro. Siamo in vita che era in questo momento ancora a 500 metri alla conclusione di questa metri mille al passaggio due giri, e la Svizzera sta girando in storia quando ha allangiato lo sprint, attenzione perché al passaggio suonerà la campana per l'ultimo giro, Belfort-Lazzo-Lazzo. Ed eccoci il direttore d'arrivo. Intanto facciamo un comunicato ufficiale che è stato presentato, reclamo, da parte della delegazione di Point Gunter, per una verifica della gara 10.000 punti del minaccio. Capone del mondo, medaglia d'oro, Gimelto Andres, Colombia. Grazie 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 Grazie.